A partire da lunedì, migliaia di partecipanti alle selezioni di tutti i concorsi della Guardia di Finanza provenienti da ogni parte d'Italia, ritorneranno presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L'Aquila. Dopo oltre cinque anni in cui le suddette procedure sono state organizzate alla sede di Bari, sarà quindi possibile effettuare in Abruzzo tutte le prove preliminarie, quelle scritte per i concorsi pubblici, per l'Accademia ed il ruolo ispettori, per i quali sono annualmente presentate decine di migliaia di domande, nonché quelle relativi alle procedure riservate agli appartenenti alle fiamme gialle per la categoria degli ispettori, dei sovrintendenti e per l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante. Il ripristino delle prove concorsuali nel capoluogo abruzzese, disposto dal Comando Generale del Corpo, è stato reso possibile dal recupero ai fini istituzionali di alcune strutture che erano state impiegate per le esigenze del periodo post-sisma. L'effettuazione di specifici lavori di adeguamento ha tra l'altro consentito di disporre di un'apposita area in grado di gestire giornalmente sino a 1.500 aspiranti suddivisi in due aliquote.